ricomponiamo le parti ciao ragazzi guardate che figura interessante cosa sarà mettiamo insieme le parti e lo scopriremo fantastico questa è una farfallina e questo cos'è non si capisce mettiamo subito insieme le parti fantastico tutto giusto ecco la coccinella interessante è questa che forma sarà forse è un altro insetto urrà ce l'abbiamo fatta questo è un grilletto come strano abbiamo ricostruito tre insetti guardiamoli di nuovo questa è una farfalla ha le ali belle e grandi questa è una coccinella ha dei simpatici puntini neri e questo è il grillo guarda che zampine forti vi siete divertiti ragazzi allora ci vediamo presto